Giulio Cesare Sottanelli, la vera novità di una campagna elettorale strana, compressa, complessa, è il terzo polo e molti si interrogano sulla consistenza anche in Abruzzo di questo terzo polo formato dalla sua azione e da Italia Viva. Certamente è la novità di questa elezione molto particolare perché appunto si sta facendo sotto l'ombrellone, stiamo chiudendo in queste ore le liste, quindi un pochino atipica anche rispetto a un periodo che speriamo che ci stiamo lasciando alle spalle della pandemia e della guerra. Certamente il terzo polo è la novità, è la novità degli ultimi 30 anni perché da 30 anni abbiamo un sistema bipolare dove i partiti si sono contrapposti dicendosi l'uno male dell'altro, vota a noi altrimenti vingono i comunisti, vota a noi altrimenti vingono i fascisti. Riteniamo che in questo momento di contemporaneità non è un problema di destra e di sinistra, bisogna attuare quel programma, quelle ricette che possono aiutare a risollevare le sorti di tante famiglie e di tante imprese. Gli italiani devono in questa campagna elettorale scegliere quelle persone che danno maggiore sicurezza per quanto riguarda la competenza. Spesse volte si è dato un voto di pancia, un voto istintivo. Noi ci auguriamo che possa essere invece in questa campagna elettorale un voto ragionato, ponderato e che siano valutati i programmi, la coerenza delle coalizioni e la qualità dei candidati. Abbiamo messo giù un programma per dare un governo, una prospettiva di crescita all'Italia in un periodo, quello autunnale e prima di emerire, che sarà molto difficile per l'economia italiana. O mettiamo persone che sono in grado di governare al meglio il Paese e che vadano d'accordo e che siano convinti sullo stesso programma o saranno mesi che ci aspettano molto difficili. Come va la convivenza con Italia Viva in Abruzzo soprattutto? In Abruzzo bene, a livello nazionale anche. Sono due leader che hanno delle forti personalità. Certamente c'è una grande stima tra loro in quanto Calende è stato ministro dello sviluppo economico e quindi invendore della 4.0 in Italia quando Renzi era presidente del Consiglio. Tutti gli screzzi che ci sono stati sono stati non su un problema programmatico o su un problema di visione della politica estera o sull'atlantismo, sull'europeismo, cosa che invece riscontriamo a destra e a sinistra. Quindi c'è piena condivisione programmatica di due personalità forti che ritengono che abbiano, a differenza degli altri leader in campo a destra e a sinistra, hanno delle capacità, delle competenze, del pragmatismo che sono uniche.